A quanti anni hai iniziato a pescare? Io ho iniziato a pescare perché avevo 10 anni, la passione me l'ha trasmessa mio nonno e sono 45 anni che pesco. L'emergenza sanitaria non ferma la passione per la pesca. Numerosi gli appassionati che affollano le rive di torrenti e fiumi per godersi alcune ore di relax immersi nella natura. Quanti pesci pesca in un giorno? In un giorno anche niente, però anche 6-7 pesci. Comunque bisogna rilasciarli qui, perciò la settimana prossima li trovi ancora. Si rilassa mentre pesca? Beh, il massimo. Cosa le piace della pesca? Di questa pesca, in particolare della pesca mosca, il contatto con la natura, essere da soli sul fiume, poter camminare per lunghi chilometri. Ti rigenera, io faccio l'avvocato, ti dà la possibilità di staccare anche con il lavoro. La stagione 2021 inizia sotto la guida di Saverio Froio, 39 anni di Sondrio, eletto presidente provinciale dell'Unione Pesca Sportiva Sodalizio Forte. E dai suoi 4.700 soci, il 30% proveniente da fuori provincia, 43 guardia pesca tra effettivi e volontari e due centri ittiogenici a Faedo e Samolaco. Con grande orgoglio, essendo un pescatore da tanti anni, ho preso questo incarico insieme alla mia squadra di governo, che è il comitato di gestione, fatto da persone giovani e competenti e da persone che hanno grande esperienza. Quali saranno le prime novità? Abbiamo creato una nuova commissione a via la pesca, concentrata su quello che è l'avvicinamento alla pesca, all'ambiente fluviale da parte dei bambini. Abbiamo anche creato una commissione turismo, perché crediamo che Unione Pesca sia sinergica con gli altri enti del territorio per quanto riguarda il turismo legato alla pesca. È un turismo destagionalizzato, è un turismo che abbraccia da marzo fino a dicembre. Per chi ama pescare, come ci si deve comportare in questo periodo di emergenza sanitaria? In zona rossa purtroppo è possibile pescare solo all'interno del proprio comune. E anche in questo momento di emergenza ringraziamo tutti i nostri soci, soprattutto in provincia, che hanno rinnovato la tessera e ci danno lo proprio sostegno. Stiamo comunque studiando delle azioni concrete per favorire, nel momento che potranno venire a trovarci, tutti i nostri associati di fuori provincia.